Il grande fratello Vip è iniziato da meno di 48 ore e il web è già in subbuglio per alcune frasi che sarebbero state dette da Katia Ricciarelli. Il soprano, vera star di questa edizione, si è ambientato particolarmente bene con i suoi coinquilini nonostante la differenza di età. Tuttavia, così come già accaduto nelle precedenti edizioni del GFV, sono proprio i concorrenti più adulti a dare i maggiori grattacapi alla produzione, con esternazioni che rasentano il cartellino rosso. In queste ore c'è gran polemica sui social, in particolare per la frase che viene considerata un vero e proprio scivolone di Katia Ricciarelli, per la quale ora viene chiesta l'espulsione. Ecco cosa si legge su Twitter. Katia Ricciarelli, senza problemi, ha detto sembri un po' coricchione ad Alex Belli per la camicia che indossa virgola. Ma Katia Ricciarelli era già finita nel mirino dei social per essersi lasciata sfuggire Dio Bono durante una conversazione. Un'affermazione simile lo scorso anno, fatta da altri concorrenti, li aveva portati alla squalifica dal GFV. Secondo voi merita la squalifica?